Siamo. Sto andando a pisciare, arrivo. Siamo. Sto andando a pisciare. 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 Ma? Sto andando a pisciare. Sto andando. Sto andando. Sto andando a pisciare. 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 perchè la sicurezza è una cosa privata cosa posso fare per te? posso prendere le munizioni le posso lanciare in volo andamela aspettiamo arrivando l'elicottero di soccorso per portarmi a casa eh appunto l'ho visto eh ora mi porta a casa questo qua mi fa da passaggio è arrivato alla cavalleria hai visto? ok ora ci porta è un coso privato è un coso privato un jet privato ci saliamo? si è ovvio che fai non ci sali? no ma perché non scende? e come fai proprio da sbaciucchi tutta e poi che fai la sbaciucchi tutta ma perché non scende st'elicottero di merda? ci sono tutti i cosi tutti i cosi ci sono tutti i cosi ci sono tutti i magination ci sono fa 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 mi sta cercando ah non so mi vedi obu obu non so non so di una famiglia vieni qua oh oh che tre ore per scendere ubriaco oh ubriaco fai tipo fai tiktok che non mi vede ah chi sta cercando i bombera? ma ora a te scoppia 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 sicuro ah vuoi scendere l'handicapassione ca sogno ca sogno vieni ca ca sogno ha handicappato oh mi ha handicappato se li potrò però non mi ha ma è una fa fa la ah non è un plano che non casca mai ah è un plano che non casca mai non è un'aura qui 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 e che ma che 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 scemo c'era scritto non l'ho trovato c'era scritto non ho trovato il passeggero forza cammina va ma che sta chiamando la polizia perché abbiamo rubato la macchina io me ne prendo una allora le brucio tutte queste macchine si venite poliziotti venite che vi brucio tutte le macchine la cosa della polizia c'è un video di youtube che è uno che fa scherzi su fortnite è bellissimo e fa la casemma della polizia si vede un bambino sei chiuso la botta appena sono morto sei chiuso la botta della sua macchina ma io non ho capito dovrei uscire o non devo uscire dobbiamo uscire è un nidi boh muri c'è mia no mi sfonda da appena ho abbetto tiktok per te mi sfonda no ma che cazzo no Quella di minimo di quelle che parlavi tu, 283 visualizzazioni e l'altro 12 GG Secondo me non mi ha scritto ancora nessuno Io io l'ho commentata quella è la maniera risposta Manco se gli è scritto il messaggio normale No, io l'ho scritto nel commento e non ho fatto niente Ma chi è questo? Chi? C'è un giociotto che mi segue Accanto privato Aspetta è vero di quando la screenshot Ma che caspita è chiesto Facciamo foto night che mi sono...